Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro TG Abruzzo in apertura. Parliamo di Rocco Siffredi, sì, perché l'attore hard abruzzese torna a far parlare di sé, questa volta non per la serie Super Sex, ispirata proprio alla sua vita, ma per le accuse di una giornalista che lo ha denunciato per presunte molestie sessuali. Sentiamo. Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali su una giornalista. La notizia arriva come una doccia fredda per il porno divo abruzzese all'anagrafe Rocco Tano, proprio nel momento in cui Super Sex, la serie che celebra la sua vita, raggiunge il record di visualizzazioni su Netflix. Stando al racconto della giornalista, che tramite il suo legale, l'avvocato Laura Sgro avrebbe fornito anche gli screenshot di chat WhatsApp e messaggi vocali, tutto a inizio nel 2023, dopo la richiesta di un'intervista proprio in vista dell'uscita della serie TV. Già in quella occasione, si legge nella denuncia, il porno attore 59enne avrebbe avanzato qualche complimento sull'avvenenza della professionista. L'intervista viene poi svolta il 15 marzo e si conclude dopo due ore. Ma poco dopo i saluti, Siffredi avrebbe inviato alla giornalista un messaggio vocale con apprezzamenti più confidenziali. Sei veramente una donna top? Femminilità? Top! Si leggerebbe in uno di questi messaggi. L'intervista viene fatta rileggere all'attore prima della pubblicazione, ma nasce un contenzioso su una parte dei contenuti sui quali il porno attore chiede all'ufficio stampa di intervenire perché vengano eliminati. Dopo la pubblicazione del testo, torna a contattarla, accusandola di mancata professionalità e definendo l'articolo gonfiato. Poi, in modo più pesante, le avrebbe continuato a mandare volgare allusione alla sua vita sessuale. Messaggi ai quali nei giorni successivi ne sarebbero seguiti altri dello stesso tenore. Mi sono sentito usato, avrebbe detto, e poi telefonate alle quali la donna dice di non aver risposto. Infine, la scelta di presentare querela. Tutto questo, spiega la giornalista, mi ha provocato uno stato di forte agitazione. Pertanto mi sono rivolta al mio medico curante, il quale mi ha prescritto farmaci per uno stato ansioso e crampi addominali. Uno stato psicofisico tale da configurare, secondo l'avvocato Sgro, che la difende, il reato di molestie e, in alcuni passaggi, quello di molestie sessuali. Tragedia questa notte intorno alle 3.30, quando una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto è intervenuta nella stazione a seguito di un grave incidente ferroviario. Una ragazza rosetana di 31 anni è stata investita da un treno merci in transito verso nord, all'altezza della stazione di Roseto. La giovane è morta sul colpo. Il treno si è fermato dopo circa un chilometro dal punto dell'investimento. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosciano, Sant'Angelo e Giulianova, la polizia scientifica e ferroviaria, oltre al personale del 118. Voltiamo pagina, torniamo a parlare di A24 e A25. La Procura dell'Aquila impugna l'assoluzione dei vertici di strada dei parchi. Ricorso in appello sull'accusa di mancata manutenzione. Ce ne parla Matteo Porfiri. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha impugnato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale nel marzo dello scorso anno ha assolto con formula piena i vertici dirigenziali e tecnici di strada dei parchi. Società per azioni del gruppo industriale abruzzese Toto, dall'accusa di mancata manutenzione dei pilastri di ponti e viadotti del tratto Aquilano, delle autostrade A24 e A25. L'appello è stato depositato il 22 giugno 2023 con la notifica ai difensori degli imputati avvenuta l'11 luglio successivo. Ci sarà quindi un nuovo processo in corte d'appello, per il quale ad oggi l'udienza non è stata ancora fissata. Da strada dei parchi, di nuovo concessionaria delle due arterie laziali abruzzesi dal 1 gennaio scorso, nessun commento ufficiale, anche se dall'interno del sodalizio, trapela un certo stupore per la diffusione di un fatto noto da mesi. Nella sentenza dell'8 marzo dello scorso anno, i giudici dell'Aquila avevano assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, l'imprenditore pescarese Carlo Toto, proprietario della Toto Holding S.P.A., considerato dall'accusa amministratore di fatto di strada dei parchi, l'allora amministratore delegato Cesare Ramadori, il direttore generale di esercizio Eginolai, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato della società partecipata di strada dei parchi, specializzata nella progettazione. La S.P.A. è tornata a gestire le A24 e A25 dopo la revoca anticipata in danno, decisa nel luglio 2022 dal Consiglio dei Ministri a Guida Draghi, per gravi inadempienze che, secondo il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, avevano causato il pericolo crollo di ponti e viadotti. Al termine di un maxi contenzioso, innescato dalle numerose impugnazioni presentate da strada dei parchi, che ha sempre respinto ogni addebito al TAR, al Consiglio di Stato e in sede civile sul volere dell'attuale governo, il Parlamento ha abrogato la revoca e ha segnato nuovamente, dopo un anno e mezzo di gestione pubblica di ANAS, la concessione al privato. All'intesa si è giunti dopo che l'esecutivo ha rischiato di essere condannato ad un mega risarcimento di oltre 2,6 miliardi di euro, come indennizzo per la revoca anticipata e i danni per una decisione posta su basi non oggettive. Pomeriggio di fuoco, ieri in via Vespucci hanno anereto per una tettoia andata in fiamme intorno alle 14.30, a sirene spiegate sono arrivate sul posto una squadra del locale di staccamento con l'ausilio di due autobotti inviate dal comando dei vigili del fuoco di Teramo. Le fiamme hanno avvolto la tettoia esterna, sotto la quale erano parcheggiati una Fiat Grande Punto, un trattorino tagliaerba, alcune biciclette ed erano depositati numerosi sacchi di pellet. A lanciare all'allarme una ragazza che vive nella casa di Acente a cortasi dell'incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco ed è subito riuscita a mettersi in salvo insieme alla sua auto parcheggiata sotto la tettoia. Sono stati momenti concitati per il timore di esplosione, fino a quando i vigili sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme che hanno distrutto la Grande Punto e tutte le attrezzature, oltre al materiale presente sotto la tettoia e sul luogo dell'intervento si è recata anche una pattuglia dei carabinieri di Alba Adriatica. E ora siamo a Tortoreto per raccontare una storia di grande generosità, quella di Renato Di Remigio, morto a 56 anni a causa di un'emoragia cerebrale. Il suo fegato sarà donato, 20 anni fa aveva subito un trapianto di rene, come racconta il figlio Simone visibilmente commosso e dice la storia della vita di mio padre e la testimonianza di quanto sia importante donare. Vediamo. L'ultimo gesto di generosità Renato Di Remigio lo ha fatto quando ormai se n'era andato. Il camionista di Tortoreto, 56 anni, è morto qualche giorno fa in ospedale a Teramo a causa di un'emoragia cerebrale. Proprio lui che 20 anni fa aveva ricevuto un rene trapiantato, oggi è diventato donatore. La famiglia ha consentito all'espianto degli organi e il fegato di Renato ora salverà altre vite. Una decisione che il 56 anni aveva espresso ai familiari prima che il malore fatale lo colpisse e che il figlio Simone oggi racconta. Mio padre amava la vita, dice la sua, è stata la testimonianza del valore della donazione. Renato Di Remigio era stato ricoverato per un'emoragia cerebrale prima all'ospedale di Atri e poi trasferito nel reparto di rianimazione a Teramo. Nella terda serata di martedì sono iniziate le pratiche per il prelievo dell'organo. Nel processo di valutazione, si legge in una nota dell'ASL, è stato ritenuto edonio alla donazione solo al fegato. Il prelievo, secondo dall'inizio dell'anno al Mazzini di Teramo, è stato effettuato da un'equipe di esperti romana. Renato non c'è più, ma lascia a chi resta uno dei più belli ed importanti atti d'amore, come ha ricordato il direttore generale dell'ASL a Teramana, Maurizio Di Giausia. Domani alle 14.30 l'ultimo saluto al 56enne con i funerali che si svolgeranno nella sua Tortoreto Lido. Conclusione, il calcio eccellenza nella semifinale della Coppa Italia nazionale. Il Teramo ha battuto 2-1 il paterno allo stadio Bonolis. Nell'andata di semifinale di Coppa Italia di eccellenza, il città di Teramo batte il paterno qui al Bonolis per 2-1. Una vittoria meritata, è stata una bella gara combattuta agonisticamente. Un Teramo che nel primo tempo ha giocato di rimessa, perché il paterno è sceso al Bonolis partendo subito all'attacco e giocando con un baricentro alto, però lasciando ampi spazi ai biancorossi per agire di rimessa. Dopo 10 minuti è stato Van Zandt a sbloccare il risultato per il Teramo, quindi a portare in vantaggio i suoi, ma proprio sul finire è arrivato il gol del pareggio per il paterno di A0. Dunque un primo tempo in cui il Teramo ha giocato bene, ma sicuramente ha avuto di fronte un avversario ostico. Poi nella ripresa subito un calcio di rigore reclamato dal Teramo per un fallo in area su De Gidio. L'arbitro ha lasciato correre il Teramo, poi con l'ingresso di Turea ha trovato più sostanza in avanti e è riuscito a portarsi in vantaggio sul 2-1, ma nel finale il paterno con Floro ha colpito una traversa e dunque il paterno recrimina per un eventuale pareggio che poteva anche strappare qui al Bonolis, ma il Teramo nel complesso ha giocato una gara di carattere, vincendo con merito. Quindi una vittoria importante, ma che lascia i giochi aperti. Quindi il 3 aprile si giocherà il ritorno al Falcone Borsellino di Paternò, dove al Teramo potrebbe anche bastare un risultato di parità per qualificarsi alla finale di Coppa Italia di Eccellenza Nazionale. Ora andiamo nello spogliatoio. Sì, è anche vero che di fronte secondo me eravamo una bella squadra, una squadra forte, una squadra forte tecnicamente, che ci ha messo giustamente in difficoltà. Noi abbiamo subito il loro palleggio, però nel secondo tempo era stata più una cosa voluta, anche perché poi quando ci siamo messi uno o due, nelle ripartenze, nel giocare la palla, tornavamo sempre dei giri dietro le spalle del play loro e li mettevamo sempre in difficoltà, però penso che nel primo tempo, i primi 30 minuti, abbiamo fatto nella partita, poi quando si è accesa la partita a punto di vista temperamentale, noi questa partita qua non la possiamo fare. Noi dobbiamo cercare di giocare a calcio, cercare di interpretare sempre il nostro gioco nel migliore dei modi, però quando si incattisce la partita noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare agli avversari. Però oggi è stata una partita giocata da due squadre forti, il risultato secondo me è la vittoria immeritata. Sì, sì, siamo ancora in gioco, c'è la partita di ritorno in casa nostra, oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra ben messa in campo, quadrata, abbiamo affrontato una squadra organizzata, secondo me forte, ben allenata. Noi cercheremo il gol, è stato per noi anche una cosa buona perché ci permette di affrontare la partita di ritorno con un piglio diverso. È tutto il nostro Tg Abruzzo, torna con l'edizione delle 19, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in compagnia della programmazione della nostra rete. Arrivederci.